Ben trovati nell'angolo dello sport. Il regista Leo Di Blasio ha proposto questa foto emblematica della vittoria ieri sera della Pescara Calcio a 5 della Coppa Italia, quindi il presidente, perché il presidente adesso del club Danilo Iannascoli ha conquistato questo prestigioso successo in attesa adesso di giocarsi la Coppa UEFA europea. Questo mi riallaccia al discorso della Pescara Calcio che il 22 e il 23 prossimi si riunirà in assemblea per la ricapitalizzazione, per risolvere tutte le questioni rimaste in sospeso. Il Pescara, come sapete, ha perso malamente sul campo del Provercelli, 5 gol pesanti, molti dei quali nati su azioni da fermo, quindi ti fa capire che la difesa insomma non è all'altezza della situazione. E questo fa capire ancora di più e meglio ai sordi di professione e ai ciechi per comodità di come siano stati sbagliati gli interventi nel mercato di gennaio e di come l'amministratore delegato Danilo Iannascoli fu costretto a dare le dimissioni per non avallare certe scelte volute dal Presidente Daniele Sebastiani, il quale non sa delegare, vuole fare da solo, fa le scelte con la mentalità del padrone di casa per cui fa padrone sotto, comanda lui e quindi tutti gli altri devono soltanto adeguarsi, ma resta il fatto che fin quando le cose vanno bene, va bene, ma se poi i nodi cominciano ad arrivare al pettine ed era naturale che arrivassero al pettine perché non ti puoi togliere dei giocatori importanti e far venire altri giocatori non pronti fisicamente per poter sostenere l'impatto del campionato e allora ti ritrovi in ambasce, si dice ma Coda è un grosso elemento, Campagnaro è stupendo, non si discute, del resto tutte le volte che ha giocato Campagnaro 10 partite, 10 vittorie per il Pescara, quindi i numeri danno ragione a queste scelte, però c'è una componente importante da considerare che è lo stato fisico, se un giocatore non ne sta bene fisicamente non ti può dare quello che la mente gli consentirebbe di darti. Ed ecco che ci ritroviamo in una posizione di classifica interlocutoria, nel giro di un mese circa abbiamo tolto, ci hanno tolto tutti i punti di vantaggio che c'erano sulla terza, quarta e quinta classificate e adesso stanno lì dietro a farci sentire, a far sentire alla Pescara Calcio, al Delfino 36, il fiatone. Del resto appena dopo il nostro telegiornale ci sarà la partita del Cesena sull'Ernitana e se tanto mi da tanto il Cesena dovesse vincere ci supererebbe in classifica relegandoci al quinto posto, perché siamo in comproprietà del quarto posto, ma per la differenza rete e per i risultati raggiunti sul campo insomma a noi toccherebbe la quinta posizione. Dopodiché ci sono dietro in tre quattro punti diverse altre squadre e quindi sabato sarà necessario, sarà importante, sarà vitale per il Pescara vincere, altrimenti saranno guai, anche perché si appesantirebbe ancora di più la situazione di Oddo nei rapporti con i giocatori, lo spogliatoio pare che non sia più unito come era prima e soprattutto, e questo è un aspetto che mi dispiace mettere in evidenza, ma la realtà è questa, i tifosi si stanno spaccando, ci sono alcuni che vogliono difendere ancora a spada tratta la società, altri che vogliono difendere a spada tratta Oddo, altri ancora che dicono vabbè noi amiamo il Pescara, ma non è detto che dobbiamo chiudere gli occhi di fronte alla realtà e quindi possiamo e dobbiamo dire da tifosi che sono attenti alle situazioni che sono state sbagliate delle cose e questo non significa dare la possibilità o diritto agli altri di definirli gufi, come sta accadendo, comunque sia avremo tempo e modo di parlare ancora di questi problemi, intanto complimenti ancora alla Pescara 5 per il risultato conseguito e soprattutto mi auguro che il 22 e il 23 si risolvano le varie situazioni. Un abbraccio a voi tutti come sempre e un ringraziamento particolare all'amico e collega Leo Di Blasio, appuntamento alle prossime edizioni di TVQ Sport.